Ben trovato, oggi voglio proporti la presentazione al Tempio del Beato Angelico. Quando ancora era frate nel convento di Fiesole, Guido di Pietro, questo era il suo nome di battesimo, era già un pittore affermato e ad attenderlo, quando entrò nel convento di Fiesole, c'era padre Antonino Pierozzi, che era maestro dei novizi ed era già, ma soprattutto sarebbe stata una figura centrale non solo per la religiosità della Firenze del tempo, ma anche per la società della Firenze quattrocentesca. In quegli anni la grande famiglia fondata da San Domenico, di Guzman, appunto i Domenicani, era caratterizzata da una dialettica interna. Da una parte c'erano coloro che erano più dediti allo studio, alla stabilità, mentre altri erano più dediti alla predicazione, a un ritorno alla regola del fondatore più semplice e si richiamavano di più alla povertà. Per favorire la sintesi tra queste due correnti, Antonino Pierozzi, che sarebbe diventato anche vescovo di Firenze, contribuì alla realizzazione di un secondo convento, proprio nella città di Firenze, dove alloggiare i frati della seconda corrente, cioè quelli più dediti alla povertà, alla predicazione, allo spirito di semplicità. E per questo, appunto, questo nuovo convento che sorse a Firenze fu patrocinato da Cosimo de' Medici e prese il nome appunto di Convento di San Marco. I lavori furono eseguiti da uno dei padri del Rinascimento, vale a dire dall'architetto Michelozzo, e ad affrescare le stanze e gli ambienti di questo nuovo convento fu chiamato proprio Guido di Pietro, che sarebbe passato alla storia col nome di Beato Angelico. La cella numero 10 era quella destinata al priore, e il primo priore ad occupare questa cella sarà proprio padre Antonino Pierozzi, fino alla sua nomina a vescovo di Firenze. Per questo ambiente l'Angelico sceglie l'episodio della presentazione di Gesù al Tempio. Perché? Perché come Simeone era stato colui che aveva riconosciuto tra tutti i bambini che venivano portati al Tempio Gesù come il Messia, come l'inviato di Dio, così il priore era colui che era, come dire, doveva verificare l'identità di coloro che si presentavano alla porta del convento per poter discernere se era una vera vocazione o meno. La sobrietà e semplicità dell'opera fu sicuramente influenzata dalla destinazione di quest'opera. Infatti quest'opera era, come le altre, erano destinate a delle celle dove il monaco, il frate, doveva pregare, contemplare, meditare. Per cui non ci doveva essere nulla che in qualche maniera distraesse da questo fine primario che era la relazione con Dio. Una luce calda e dorata vediamo che pervade, che avvolge dolcemente i corpi e li stacca dal fondo facendoci percepire quella che è la loro volumetria. Al di sotto di un catino absidale, a forma di conchiglia, la conchiglia chiaramente è un simbolo che rimanda alla verginità di Maria, si svolge l'incontro tra Gesù bambino e l'anziano Simone, che nell'Evangelo di Luca viene definito uomo giusto e timorato di Dio che aspettava il conforto di Israele. In primo piano vediamo due figure vicine all'osservatore, una donna vestita di nero e questo personaggio che è Pietro Martire, che contemplano la scena in raccoglimento, in preghiera. Pietro Martire è riconoscibile per questa ferita profonda che ha sulla testa. Lui apparteneva all'ordine domenicano, come rivela innanzitutto il mantello nero e la tonsura sulla testa. Fu ucciso nel 1252 da alcuni sicari mentre stava percorrendo la strada da Como a Milano e fu ucciso con un falcetto che gli venne proprio, come dire, venne colpito con questo falcetto sulla testa. E questo simbolo iconografico, ogni volta che vediamo un personaggio con un falcetto sulla testa o comunque con una ferita sulla testa, è appunto San Pietro Martire. La presenza anacronistica del primo santo domenicano, che chiaramente non è del tempo di Gesù, serviva e serve all'artista per, come dire, attualizzare l'episodio narrato, quindi come se i frati che nel 1400 sarebbero stati davanti a quest'opera si sentissero, come dire, protagonisti, attori principali della scena. L'altra donna di profilo potrebbe essere la profetessa Anna, descritta dall'Evangelista Luca come una donna anziana che addirittura aveva 84 anni, figlia di un certo Fanuele. Luca stesso ci dice che non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Secondo un'altra ipotesi, però, questa donna potrebbe essere la beata villana dei Botti, una penitente facente parte del terzo ordine domenicano. La sua veste si accorderebbe con entrambi le ipotesi, perché il nero indicherebbe la condizione della vedovanza, appunto, di Anna di Fanuele, ma, come dicevamo prima, diciamo, si accorda anche con, è tipico anche dell'abito dei Domenicani, quindi lei facente parte del terzo ordine dei Domenicani e quindi questo abito nero le si, diciamo, sarebbe adatto. Il centro dell'affresco è rappresentato, ecco qui invece vediamo il martirio di San Pietro Martire. Il centro dell'affresco è rappresentato dalle mani di Maria, sono mani che stanno offrendo e nello stesso tempo stanno accogliendo. Il volto, rappresentato di Maria di profilo, è sereno, anche se la drammaticità del suo gesto sembra ricordare quella che è la profezia dell'anziano Simeone, e anche a te, Maria, una spada trafiggerà l'anima. Questa drammaticità emerge anche dai colori dei suoi abiti, infatti abbiamo il viola, che è il colore della sofferenza, e il rosso, che è il colore del sangue, della passione. La stessa, diciamo, questa drammaticità dell'evento è all'usa da queste fiamme che ardono sull'altare, che sembrano accompagnare il gesto di Maria. Dietro alla sposa Maria c'è lo sposo Giuseppe, rappresentato con un cesto di vimini, mentre trene due colombe, che erano appunto l'offerta che veniva portata al Tempio nel momento in cui veniva presentato il figlio primogenito. L'angelico fissa l'attimo in cui Simeone, come dire, si incrocia, c'è l'incrocio di sguardi tra l'anziano Simeone e il piccolo Gesù bambino, e questo incrocio di sguardi è proprio il fulcro della scena. Questo gesto, questo sguardo, chiaramente allude all'incrollabile fede e all'incrollabile perseveranza di quest'uomo che in qualche maniera è rappresentativo di tutto il popolo di Israele che attendeva il Messia. A questa ferma speranza rimanda anche la veste verde, che è rappresentata con questi colori cangianti straordinari da parte del Beato Angelico. Le figure sono allungate, ma il chiaroscuro, che è evidentissimo, evita di farle apparire eteree, come per esempio avveniva nel Gotico Internazionale. L'anziano Verliardo stende le labbra quasi ad accennare a una sorta di sorriso, però il suo sguardo vediamo che è grave, la fronte la vediamo anche corrugata e sta, come dire, osservando meditabondo questo bambino che tiene in braccio, in qualche maniera vede in questo bambino l'ombra di un grande e drammatico destino che lo attende. La croce del resto avvolge Gesù pur essendo in fasce, infatti la vediamo nella sua aureola, i tre bracci della croce rossa vediamo che alliudono chiaramente la sua appartenenza alla famiglia trinitaria e poi percorrendo tutto il corpicino del bambino riemerge, questi colori della croce rossa appunto riemergono nei piedini e proprio in questo panno rosso che avvolge i piedi del bambino. Grazie per la tua attenzione.